perché avevo appena fatto un video l'ho chiuso l'ho registrato come ho detto nel video che ho appena chiuso volevo riregistrare oggi mi dedicavo a queste cose ma rimettere a posto alcuni video non belli li lascio comunque sul mio canale però li aggiusto uno dei primi video che ho fatto nel mio canale è stato riguardava la definizione di funzione a parte che era molto lungo ma poi come mi è stato fatto notare purtroppo all'inizio io mettevo nell'angolino il riquadro della mia faccia mentre spiegavo e quindi alcune righe non si vedevano per cui rifaccio alcuni video magari cercando di essere un pochino più succinta si dice succinta è questo mio figlio che grida di là perché ci sono gli europei di basket noi eravamo una famiglia di cestisti più o meno allora adesso io sono diventata tennista oggi ho ripreso gli allenamenti bene allora se non avessi l'età che ho con alcune nervosismi che ho adesso sarei talmente motivata che diventerei la la williams sicuramente o sentite le urla di là vabbè da ok allora quindi adesso registro un video un po pensando anche le argomenti che sto facendo quest'anno in classe io sto facendo video sui sistemi e adesso invece volevo fare dei video su sulle funzioni che faccio sia con i miei di quartaitis che anche con la terza liceo quindi definizione di funzione solo definizione definizione di funzione grafico che relazione eccetera una funzione è un grafico ok andiamo a condividere il mio schermo eccolo qua allora come ho detto ai miei studenti questa volta facciamo i seri non facciamo nell'altro video dove ho messo in relazione i maschi maschi e le femmine mamma sentite come urla se deve essere allora qui mettiamo come ho fatto oggi delle città tipo milano facciamo roma no roma no facciamo napoli e facciamo genova ok qua mettiamo delle ragioni tipo lombardia piemonte mettiamo campagna e mettiamo liguria allora innanzitutto questo diciamo l'insieme a l'insieme b ogni funzione lì si dà un nome quando come non so quando nasce un bambino lo chiamate ovviamente non è che i nomi sono infiniti facevo oggi l'esempio in classe di persone che si chiamano giuseppe in italia ce ne sono parecchie di solito il nome di una funzione viene dato innanzitutto con la lettera minuscola il nome più comune che si dà di solito la funzione f piccolo allora il problema è che se magari in un esercizio ci sono in gioco più funzioni di solito vengono chiamate con nomi diversi fgh di solito se ci sono in ballo se ci fossero in ballo tre funzioni la funzione ovviamente di solito viene specificato chi è l'insieme di partenza chi è l'insieme d'arrivo per esempio nelle funzioni dove l'insieme di partenza l'insieme d'arrivo sono insiemi numerici benedetto f due punti non so l'insieme dei numeri naturali ed arrivo per esempio l'insieme dei numeri reali voi dovete pensare nel primo insieme tutti i numeri naturali 0 1 2 3 nel secondo insieme tutti i numeri reali allora se non sono se non fossero funzioni di tipo numerico come si associano gli elementi di a gli elementi di b bisogna dirlo parole ovviamente io questo caso cosa farei associerei la la città alla regione di appartenenza milano lombardia napoli campagna genova liguria potrei fare anche cose diverse potrei dire io associo la città alla città la regione che ha la lettera che comincia uguale per dire ma di solito insomma questa sarebbe l'associazione nelle funzioni di tipo non numerico come associare gli elementi lo devo descrivere a parole nelle funzioni invece di tipo numerico l'associazione facciamo una funzione che invece di andare dai naturali ai naturali va da r in r viene descritta con la formula io introduco delle x e queste x nella funzione vengono associate per esempio a x alla seconda ho già detto tutto voi capite che se io lo scrivesse parola alla x associo il suo quadrato è molto più lungo che scriverlo così mettiamo che poi la vostra funzione faccia questa cosa qua se io questo questa associazione la dovessi descrivere a parole dovere dire associo ogni x il numero che si ottiene elevando il numero al quadrato a cui sottraggo 1 e il risultato lo divido per il numero sommato a cui sommo 2 cioè i libri di matematica invece di essere 100 pagine sarebbero di 1000 perché questa funzione la scrivo molto più agevolmente così ok allora per essere funzione deve succedere questa cosa che ogni elemento di a deve essere associato ad uno ed uno solo elemento di b quindi voi dovete controllare che tutti gli elementi di a abbiano il corrispondente e che sia uno ok allora se io ho una situazione di questo genere lei non è funzione che quello che io dicevo nel video precedente che avevo fatto quello un po lungo dove si erano nascoste alcune cose se io ho un fidanzato che ha due fidanzate diverse oggi ho fatto ridere i miei ragazzi di quarta morivano da ridere dicevo Luca se quello puntini puntini di Luca ha due fidanzate lui è uno stiro eccetera eccetera si può può succedere nell'ambito delle relazioni può capitare una cosa del genere purtroppo capita però questa non sarebbe classificata a funzione se invece dovesse succedere che voi avete due elementi diversi associati allo stesso elemento due ragazze che hanno la stessa fidanzata questa ho detto anche in classe questa è una figa cioè è una super vabbè scherzo ovviamente a dire queste cose avete due ragazzi diversi associati allo stesso elemento due elementi diversi associati allo stesso elemento questa è una funzione non importa l'importante è che ogni elemento del primo insieme abbia un'immagine una sola se dovesse succedere una cosa così non è funzione perché a lui non è associato nulla ok devo associarli qualcosa se dovesse proprio capitare che c'è un elemento a cui non è associato nulla voi prendete quell'elemento e lo togliete per esempio in questa funzione se voi doveste partire da meno 2 meno 2 dovrebbe arrivare 4 meno 1 fa 3 fratto 0 3 fratto 0 non esiste a meno 2 non arriva niente io prendo il meno 2 lo tolgo dall'insieme di partenza ok quindi l'insieme di partenza invece di essere tutti reali diventano i reali meno meno 2 allora un po' di nomenclatura questi elementi di solito vengono chiamati le x l'ho scritto anche qui questi elementi loro corrispondenti vengono chiamate le y infatti le funzioni invece di scriverle così di solito si scrivono in questa maniera la y la ottengo prendendo la x elevandola al quadrato li sottrago 1 e faccio x più 2 in questa particolare funzione se non volete scrivere così si può anche scrivere la f di x questa macchina questa macchina che ho chiamato f fa questa operazione gli viene introdotta la x e viene sputata fuori un numero che subisce queste operazioni ok come ho detto ai miei ragazzi ovviamente di funzioni ne potete inventare 3500 milioni di miliardi cioè anzi no infinite potete sbizzarrirvi a inventare qualsiasi funzione cosa c'entra tutto questo col piano cartesiano piano cartesiano è un piano dotato di due assi l'asse x che è l'orizzontale l'asse y che è verticale come ho detto oggi questo punto è quello che ha coordinate 00 dovete dotare tutto sempre di un'unità di misura secondo l'unità di misura per esempio questo punto ogni punto che sta sull'asse x ha una scissa in questo caso sarebbe 5 per esempio e 0 ogni punto che è sull'asse y ha 0 come ascissa e l'ordinata in questo caso 2 ogni punto che è sul piano per trovare le coordinate tracciate le perpendicolari per esempio questo punto p è associato alle coordinate per esempio 3 e 1 allora i punti di questo quadrante hanno le coordinate positive i punti di questo hanno la x negativa e la y positiva nel terzo quadrante tutte e due negative nel quarto la x più e la y meno cosa c'entra tutto questo sul grafico? voi avete una determinata funzione y uguale a f di x io vi dico sicuramente lei avrà un grafico magari lei rappresenta io ne ho scritta una così generica lei è rappresentata da un grafico boh fatto così per esempio cosa vuol dire questa cosa? il grafico che cos'è? è una curva poi potrebbe essere anche una retta in generale è una curva una curva che cos'è? è fatta di tanti punti ogni punto sta sul grafico della funzione y uguale a f di x se ha questa caratteristica questo è il punto P ha una sua x la sua y non è un numero qualsiasi la sua y è proprio quella che voi calcolate mettendo dentro la x per esempio in questo caso la x di questo punto è 7 io prendo il 7 lo metto dentro in questa funzione mi viene sputato fuori 2 più o meno vabbè facciamo finta che passava da qua ecco questo punto di coordinate 7 e 2 fa parte del grafico perché in quella funzione se metto dentro il 7 al posto della x mi viene come risultato 2 allora prendiamo una funzione qualsiasi y uguale x alla quarta meno 3 voi fate per esempio il caso che al posto di x ci mettete 1 fate i calcoli y cosa verrebbe 1 alla quarta fa 1 1 meno 3 viene meno 2 quindi a 1 corrisponde meno 2 a una cosa che non vi ho detto le x si chiamano le variabili indipendenti perché le potete io perché ho scelto 1 perché ci avevo voglia meno 2 invece è dipeso dalla scelta che ho fatto di prendere come x 1 quindi variabili indipendenti variabili dipendenti ecco il punto 1 meno 2 sicuramente farà parte del grafico di questa funzione facciamo un altro esempio se io prendessi come x a 0 la y non verrebbe meno 3 0 alla quarta fa 0 0 meno 3 fa meno 3 e così via chiaramente costruire un grafico non è che lo fate per punti di solito si fa magari se si vuole magari trovare qualche punto che appartiene al grafico si fa una tabellina così a 1 corrisponde meno 2 a 0 corrisponde meno 3 a meno 1 corrisponde sempre meno 2 perché meno 1 alla quarta fa sempre 1 1 meno 3 fa sempre meno 2 e così via a 2 cosa corrisponderebbe 2 alla quarta fa 16 16 meno 3 fa 13 il punto 1 meno 2 1 meno 2 sarebbe un punto qua 0 meno 3 sarebbe questo meno 1 meno 2 2 13 là in alto però io ovviamente do solamente alcuni punti che fanno parte della funzione io per costruire un grafico avrei bisogno di andare a sostituire al posto di x tutti gli infiniti valori di r ovviamente è una cosa impossibile e quindi non si fa così il disegno di una funzione lo si fa facendo tutto lo studio dell'analisi ci è intersezione segno limiti derivate eccetera eccetera però in questo video mi serve aver chiarito che cos'è una funzione e cosa vuol dire disegnarne il grafico va bene così almeno ho riassunto quel famoso video che avevo fatto all'inizio in cui erano anche un pochino cancellate delle scritte così ho contato allora saluto tra l'altro i miei adesso vado a prendere i nomi di queste persone che mi avevano fatto questo piacere Roberto Gozzi che mi ha fatto sarebbe meglio riuscire a far vedere le parti che non si vedevano e anche chi è che mi aveva segnalato c'era un'altra persona che mi se Petrone non ho scritto Giovanni Domenico Simonetti che ringrazio tantissimo perché se permette le segnalo che dopo il prodotto per tre invece di aver scritto 21 avevo tagliato e scritto solo due quindi anche lui Giovanni Domenico Simonetti lo saluto e lo ringrazio per la segnalazione che mi avevano fatto del video dove avevo fatto questo errore oggi ho rigirato un video ancora sui sistemi nel risolvere Kramer ho rifatto un pochino anche la questione della riduzione ok clicca su campanella vi prego ciao seguite il mio canale e vi saluto grazie a tutti